La semplificazione normativa è necessaria per portare risorse al Paese perché oggi la burocrazia, la quantità di passaggi inutili, la sovrapposizione di legge, l'incertezza dei rapporti frena l'economia. Perché se un imprenditore o uno che vuole aprire un'attività economica si imbatte in troppi adempimenti, in tempi lunghi, alla fine desiste, non lo fa più. Faccio un esempio per tutti, se devo aprire un bar e mi occorrono 72 adempimenti in 26 uffici diversi, io penso di ritirarmi, passa la voglia di intraprendere. E questo non solo non sviluppa il nostro Paese da un punto di vista economico, ma anche non attira investimenti da parte degli altri Paesi. Perché se si imbattono in troppe difficoltà, perché la burocrazia porta anche interpretazioni diverse delle norme nella loro sovrapposizione, significa un danno incredibile per noi. E lo diceva del resto stamattina anche il Presidente dell'ABI, che abbiamo bisogno di una grande semplificazione normativa, proprio per liberare energie e risorse.